Ciao a tutti e bentornati nel mio canale! Oggi volevo fare un video svuota la spesa anche se mi rendo conto che la location non è proprio adatta per un svuota la spesa perché sono in camera da letto, però come vi avevo già detto nei video precedenti fa veramente troppo caldo e quindi quest'estate probabilmente molti video li girerò qui perché è la stanza più fresca. Ma cominciamo subito con i prodotti che ho acquistato sono andata a fare la spesa alla PAM e ho preso un pochino di prodotti comincio con questo che è il gelato valsoia gusto orzo malto e cacao e comincio da questo perché corro subito a metterlo nel congelatore altrimenti si scioglie. Questo è un gelato che a me piace moltissimo perché ha quel retro gusto comunque di caffè unito al cioccolato all'orzo comunque ha un sapore veramente che mi piace tantissimo quindi questo è assolutamente un prodotto che io compro molto spesso. Poi ho preso uno yogurt della Total questo con 0% di grassi e ho voluto provare il sapore al melograno e al lampone è quello che ha questa parte diciamo in più con la marmellata dentro da aggiungere allo yogurt. Dico marmellata ma non so di preciso cosa sia comunque una salsina diciamo al lampone al melograno e ho voluto provarlo perché è un sapore quello del lampone che mi piace tantissimo e sono veramente curiosa di vedere se mi piace associato al melograno quindi questo è un esperimento. Poi ho preso altri due yogurt questa volta della Fruyot questi qua uno al cocco e uno alla pera questi anche hanno lo 0% di grassi e io li mangio abbastanza spesso perché comunque mi piacciono tantissime perché a volte soprattutto in estate alla sera non ho tanta voglia di mangiare primo secondo contorno quindi magari mi mangio soltanto un secondo col contorno e poi ci aggiungo uno yogurt di questi che comunque è da 170 grammi quindi va comunque a sostituire un pasto secondo me comunque una parte di un pasto e quindi con questi yogurt giganti io a volte ci faccio cena e poi magari come vi dicevo aggiungo un secondo leggero con un contorno perché quando fa tanto caldo comunque primo secondo contorno e tutto è una cosa che io non riesco a fare. Poi ho preso un succo di frutta skipper senza zuccheri aggiunti alla pesca e questo secondo me è un prodotto di ottima qualità. Poi ho preso una cosa che nella mia città io sono di Genova e se siete di Genova sapete che c'è una cosa che non può mai mancare in casa che è la focaccia genovese. L'ho presa già confezionata perché comunque io poi la taglio a strisce la congelo la mangio per colazione insomma comunque questa è una cosa che nelle case di un Genovese non può assolutamente mancare perché la focaccia genovese per noi è sacra. Ne ho preso addirittura due confezioni una delle due con l'orlo perché c'è chi la vuole con l'orlo e c'è chi la vuole senza e io sono una di quelle persone che la vuole con l'orlo. Ho comprato poi due confezioni di latte scremato a lunga conservazione della Steril Garda di questa marca io mi trovo abbastanza bene con questo tipo di latte. Ho comprato poi una cosa che non prendevo da tantissimo tempo ossia i biscotti bucaneve questi qua io una volta li mangiavo sempre a colazione questi poi ho cambiato c'è stato un periodo in cui ho deciso di cambiare tipo di biscotti e adesso mi è tornata la voglia di mangiare i bucaneve perché comunque sono abbastanza leggeri al mattino secondo me non sono biscotti particolarmente pesanti poi tenete presente che io faccio una colazione abbastanza leggera quindi non è che mangio quintali di roba al mattino e quindi un paio di biscotti di questi assolutamente per me sono perfetti al mattino e avevo voglia di mangiarli di nuovo perché davvero era passato tantissimo tempo. Ho preso due confezioni di budino valsoia uno al caramello e uno al cioccolato questi qui io mi trovo benissimo con questi prodotti mi piacciono tantissimo io li prendo valsoia non tanto perché non possa mangiare il latte perché non ho problemi con il lattosio però li trovo comunque un pochino più leggeri quindi li preferisco. Poi ho preso una confezione di panini al latte questi qui della nuvo latte che sono adatti da fare sia salati che dolci però noi li mangiamo dolci con la marmellata nel mezzo soprattutto queste sono cose che mangiamo a colazione però insomma comunque sono buoni anche come snack. Poi ho preso una confezione di Gatorade al limone questi sono quei prodotti adatti per gli sportivi però in estate comunque i sali minerali si consumano più facilmente quindi compriamo anche queste cose. Poi ho preso un pacchetto di cracker integrali della misura questi qua questi sono molto buoni secondo me sono proprio davvero integrali quindi si sente proprio il gusto dell'integrale mi piacciono tantissimo e poi finalmente ho preso un pochino di frutta una banana ne ho preso una sola perché noi non mangiamo tantissime banane quindi poi vanno a male preferisco comprarne piuttosto una al giorno piuttosto che averne in casa 5 o 6 che poi devo buttarle. Invece mangiamo molto più spesso le albicocche infatti le albicocche le ho prese in questa confezione gigante però queste le mangiamo abbastanza frequentemente e poi ho preso una confezione di pesche pesche gialle molto classiche assolutamente normale e ho preso tre bottiglie d'acqua naturale di queste Panorama la marca quindi marca supermercato queste qua di acqua naturale molto semplice ecco questa è la mia spesa alla PAM è un supermercato che a me piace molto anche se ci vado abbastanza poco perché i prezzi sono abbastanza elevati però è molto grande ha un sacco di roba e quindi ogni tanto io mi lascio tentare e vado alla PAM. Fatemi sapere nei commenti se anche voi ogni tanto fate la spesa alla PAM io vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme a presto Grazie a tutti